Questa è l'Isola Felice, uno stupendo centro estetico specializzato nel trattamento del corpo. Qui i clienti trovano professionalità, passione e capacità. L'Hospitality è garantita anche dalla scelta dei colori, lievi, rilassanti, delicati e caldi. Il nostro percorso s'adventra nelle camere di bellezza dove incontriamo la cabina per il corpo, con ammessa piscina e dromassaggio per un trattamento salutare e benefico. Il corpo, sottoposto all'azione dell'acqua, si tonifica e ritrova energia. La vista dello zodiaco, ideale per la cromoterapia, è rilassante. Un ideale viaggio dello spirito in mezzo alle stelle. Il viaggio all'interno dell'Isola Felice prosegue accolti da Ninfea, lampada aperta antipanico, e Cleopatra, gioiello della casa. Il lettino soft abbronzante, dove comodamente distesi possiamo dare colore e calore al corpo. Infine abbiamo Nerone, una poltrona trifacciale per un trattamento completo. Dal 2005 proseguiamo con orgoglio, insieme ai nostri clienti. Una meravigliosa vacanza su l'Isola Felice. L'Isola Felice è una realtà dietro l'angolo. L'Isola Felice è una realtà dietro l'angolo.